ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora ai navi react show ragazzi per questo video vi porto la nuova canzone dei hellovenians sono sicuro che sarà un video pazzesco sono sicuro che saranno un milione di euro di macchine quindi partiamo subito partiamo ragazzi sembra sembra che l'abbiano girato in albania questo video ragazzi già il prodotto la produzione che fanno i hellovenians è qualcosa di unico è qualcosa che il rap albanese ha bisogno ha bisogno in questo momento è qualcosa che solo loro possono fare in questo momento pazzesco ragazzi loro quando dormono hanno paura dei propri sogni ragazzi vi è stile è un poeta vince vince pure stile è un poeta devi capirlo bene però lui è un poeta ragazzi perché io ho due ferie dentro la mia borsa per pagare i debiti dei notti delle notti di mezzanotte quindi il lavoro che fanno è così pericoloso che lui fa sempre armato guarda ragazzi che collegamento ma guarda che sono pazzi allora ragazzi analizziamo la prima parte video pazzesco sembra di essere a hollywood sembra di essere a hollywood non in albania stile con il suo flow da gangster da padrino ok mi piace tantissimo andiamo ad ascoltare vince adesso andiamo allora ragazzi che combinazione perfetta sono questi due ragazzi che combinazione perfetta sono questi due rapper abbiamo vince che è un po' più spinto un po' più aggressivo abbiamo stilt è calmo e stile padrino che ma che dice comunque cose cattivissime ma con uno stile tranquillo video pazzesco ragazzi 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 qua veramente stiamo facendo la storia del rap al panico perché noi quando ci incazziamo qua si evapora tutto ragazzi perché quando noi ci incazziamo qua evapora tutto ragazzi cosa sono cosa sono questi rapper quanto mi mancava una canzone rap quanto mi mancava una canzone rap del genere pazzesco noi due siamo diversi si può notare la differenza ragazzi sono troppo felice sono troppo felice stasera andiamo e i miei amici cosa faranno se io verrò abbazzato o sarò morto saranno a caso usciranno fuori a vendicarmi ross royce in albania ragazzi questo è un film di hollywood non è un video questo è un film di hollywood che hanno portato in albania andiamo quando noi hit bang gli altri escono dalla strada dice escono dalla partita mamma mia ragazzi mamma mia al di là se uno piace unicatil noisistressi fineme ferro sem quello che volete ragazzi questo video è un rap pazzesco questo fa invidia il miglior video rap d'europa pazzesco perché loro quando dormono ha paura dei stessi sogni Quanto può essere poeta Perché io esco alle 12 per Ok Stil avete fatto un lavoro Della Madonna ragazzi Avete fatto un lavoro pazzesco 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 ragazzi Pazzesco Wow Perché voi state giocando un film come se fosse Robert De Niro Ma io vado sempre in armato Quando vado in giro Oh fa pure rima in italiano Fa pure rima in italiano Fa pure rima in italiano sta frase qua Pazzesco ragazzi Ragazzi sono troppo felice stasera Sono troppo felice Ok Ok andiamo Andiamo Non voglio più interrompia però ragazzi voglio capire tutto Mi sto divertendo troppo Il f Questo è un film da Tarantino Aspetta che lo guardo ancora, questa parte che me lo sono perso Dicono che lo tengono sempre con loro, però mai non sparano Ragazzi ragazzi che... Oh mio Dio che canzone no? Che bella, che bella, che bella Bellissima ragazzi No? Certo Non voglio no? Che bella, che bella lì Iscriviti il canale 5 Comunale Che bella, che bella? Che bella Che bella, che bella non bobo perché questi ragazzi albanesi hanno un cuore così grande non grande e così forte che dire ragazzi che video, che canzone, che flow, che ritmo che testo hanno scritto inno della musica rap di quest'anno ragazzi non lo so, chi ha fatto un'altra canzone più bella di questa non esiste, non esiste io penso di aver capito tutta la canzone penso di aver analizzato bene la canzone veramente sono molto felice ok still che video hanno fatto? che video hanno fatto? che video hanno fatto? dove sono? in Alba Lia o siamo in Hollywood? ragazzi che video hanno fatto? che produzione è? che video hanno fatto questi ragazzi? è pazzesco ragazzi guardate lì Ross Royce 100 persone ragazzi 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 questa è una delle canzoni migliori rap in Albania assolutamente quest'anno questi ragazzi stanno prendendo il rap albanese e lo stanno portando in alto c'è poco da dire perché veramente ragazzi a uno può piacere noisy, stress, fine ma ho già detto questi ragazzi sono di un livello altissimo di rap ma veramente molto molto alto quindi che dire ragazzi lasciate nei commenti voi cosa ne pensate della mia reaction e io veramente mi sono divertito tantissimo noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi vi saluto dall'Italia ciao 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 ciao